Sono emerse a nuova luce frequentazioni di Marco Campione con soggetti appartenenti o comunque legati a Cosa Nostra, frequentazioni che almeno in alcuni casi risultano provate da assunte a fondamento di decisione della magistratura. E' questo uno dei passaggi più significativi delle 36 pagine di cui si compone l'interdittiva antimafia firmata dal prefetto di Agrigento Dario Caputo e avente come destinatario il presidente della Girgenti Acqua S.P.A., la società privata che dal 2007 gestisce le risorse idriche pubbliche in 27 dei 43 comuni della provincia. Una nuova istruttoria, quella della prefettura agrigentina, culminata con il provvedimento di ieri, istruttoria aperta dopo che fino al 2015 la liberatoria antimafia alla società Girgenti Acqua veniva regolarmente confermata, ma nel frattempo è intervenuta una nuova inchiesta dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sia quella che tra gli altri ha coinvolto perfino Nicola Diomede, l'ex prefetto di Agrigento, accusato insieme ad un'altra settantina di persone di avere in qualche modo aiutato la Girgenti Acqua S.P.A. La prefettura di Agrigento, inoltre, nella sua interdittiva, elenca una serie di presunte operazioni societarie fittizie che sarebbero state condotte da campione nell'ambito di quello che è stato definito sistema del tavolino, quello con il quale Cosa Nostra ha gestito gli appalti pubblici fin dalla metà degli anni Ottanta. Viene citata anche nell'interdittiva la relazione del 2017 dalla Direzione Nazionale Antimafia, quella che ha individuato tra gli altri anche l'emergenza ambientale, tra i settori particolarmente permeabili al rischio di infiltrazioni mafiose, un settore sul quale Campione è appuntato. In tale direzione vengono evidenziati numerosi procedimenti penali in corso sulla presunta mala gestione degli impianti di depurazione in diversi comuni, dove spicca l'inchiesta per abuso d'ufficio e truffa ai danni di Marco Campione condotta dalla Procura di Sciacca sulla mancata esecuzione dei lavori di riparazione della rete fognaria di Ribera, situazione questa che aveva determinato lo scarico delle acque refre non depurate direttamente in mare. Nessuno dei procedimenti penali elencati dal prefetto nell'interdittiva antimafia sia ancora completato con una sentenza definitiva, tuttavia il provvedimento chiarisce che l'impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all'autorità preposta all'ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione della difesa sociale, qualora esaminato il quadro complessivo, gli elementi acquisiti siano rivelatori del rischio concreto di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata. Fin qui dunque il provvedimento del prefetto, una vicenda su cui al momento Francesca Valenti, presidente dell'ATI, preferisce non rilasciare alcun commento ufficiale. Lo fa il portavoce di Intercopa, Franco Zamuto, il quale fa notare che tutte le osservazioni contenute nel provvedimento firmato dal prefetto Caputo sono le stesse che da anni formula proprio il Comitato intercomunale per l'acqua pubblica. Questione che naturalmente induce a più di una riflessione sul futuro. La domanda infatti sorge spontanea. Cosa succede da domani? Avendo perduto la certificazione antimafia, può Girgenti Acque continuare a gestire un servizio così importante? Oppure si deve già iniziare ad immaginare un commissariamento, sempre nell'amore che naturalmente il presidente Marco Campione ricorra al Tribunale Amministrativo regionale contro la validità del provvedimento in questione? Una situazione che non può non preoccupare anche rispetto ad una condizione, per dire quella delle strade saccensi interessate da frane e smottamenti di origine fognaria che rischiano di rimanere più o meno transennato e chiuso al traffico. Un tema apparentemente secondario ma del quale, in mancanza di un piano B, prima o poi bisognerà occuparsi di certo C, che Francesca Valente è già convocato ai sindaci dell'Assemblea territoriale idrica, di cui è presidente, per un vertice urgente sulla situazione. Grazie a tutti.